Zero discrimination! Zero HIV cases! Stop AIDS! Preparano un flash mob il cui il messaggio è prevenire, prevenire e soprattutto essere informati, prevenire ed essere informati. Noi divulghiamo la prevenzione in quasi tutte, la giusta informazione, in quasi tutte le scuole superiori di Padova da anni, da quasi dieci anni e con i ragazzi Erasmus perché puntiamo ai giovani e il futuro è nelle loro mani. Prevenire e soprattutto non abbassare la guardia perché purtroppo l'epidemia è in aumento, soprattutto nella regione Veneta. Abbiamo qui le bandiere dei vari paesi dei ragazzi Erasmus con le statistiche e i dati sulla diffusione dell'epidemia, della malattia, dell'infezione da HIV nei loro paesi. Sono distribuiti anche i preservativi? I preservativi, sì. Vengono offerti gratuitamente a tutti dei preservativi che per il momento in mancanza di un vaccino è l'unica prevenzione fondata, seria, che si può fare, che si può augurare ai giovani chiaramente. Stop AIDS!